Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, gravissimo lutto per la musica italiana e scomparso nelle scorse ore un grande artista e prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video parliamo di una perdita che ha colpito la musica e la tradizione italiana a 74 anni e mancato un pilastro della musica e nella fattispecie della musica napoletana nel mondo e con grande rammarico che il primo anno di Marco Liguori annuncia il decesso del cantante e artista Peppe Napolitano, grande interprete della canzone tradizionale napoletana, aveva 74 anni ed era stato allievo di uno dei massimi interpreti della canzone partenopea, vale a dire Sergio Bruni, è stato a sua volta una sorta di ambasciatore della musica classica napoletana nel mondo nel corso della sua carriera. Peppe Napolitano si è esibito sempre accompagnato dalla sua fedelissima chitarra al British Museum di Londra, all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi e alla Casa di Letteratura di Monaco di Baviera. Questo soltanto per citare alcuni degli importanti concerti che ha tenuto nel corso della sua prolifica carriera la musica napoletana ha perso un suo grande esponente e il primo anno di Marco Liguori ricorda il grande Peppe Napolitano che ricordiamo è mancato a soli 74 anni. Amici di Tutubio vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale e condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori, il canale dei video di Cronaca e sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale.